Qualche ricoverato in più in malattie infettive, sono 50 infatti i pazienti presenti in questo momento all'ospedale Sant'Elia e al Vittorio Emanuele di Gela, ma ci sono comunque sempre meno positivi. Infatti sono 164 i positivi riscontrati nelle ultime 24 ore in città e in provincia, sono 57 di Gela, 52 di Caltanissetta, si abbassano anche i numeri complessivi di presenza di positivi nei vari paesi. Sono 750 in quarantena domiciliare a Caltanissetta, sono 14 ricoverati in malattie infettive e invece sono 1207 in quarantena domiciliare a Gela e sono 14 ricoverati in malattie infettive. Sono in tutto 3695 i pazienti positivi in tutta la provincia in degenza domiciliare.